Chiedo al presidente Bufi di Anasf, ho il sospetto che anche lei sarà in sintonia, se no non saremo qui allo stesso tavolo immagino. Direi che sia Paolo Righi che Luca Cagaburro prima di me hanno rappresentato in modo egregio il sentimento e gli obiettivi che l'Associazione dei Promotori Finanziari, l'Anasf, si pone su questo versante. Lo dicevo prima, abbiamo ascoltato oggi qui la rappresentanza della politica presente, ha fatto bene a ribadirlo Paolo Righi in questo senso, perché noi abbiamo invitato come nostra prassi tutte le forze politiche presenti in Parlamento, poi ci sono delle valutazioni che ciascuno fa da questo punto di vista, quindi non entro poi nel merito, è così, questa è la prassi perché noi siamo chiamati a risolvere i problemi delle categorie che rappresentiamo, quindi è evidente che coloro i quali su questo ci danno il loro sostegno sono i benvenuti, tanto più se riceviamo da questi stessi soggetti attestati di stima, di fiducia, di argomentazioni condivisibili e quindi un sostegno poi ai progetti che rappresentiamo e che poniamo all'interesse della politica stessa. Quindi nulla da aggiungere, bene è così. Ma appunto dicevo, siccome abbiamo ascoltato degli impegni precisi, è su questi che misureremo, mi permetto di dire, i nostri rappresentanti della politica, perché di fronte a degli impegni precisi nascono delle aspettative precise. Poi sarà un nostro compito evidentemente, possibilmente unitario, unito o all'unisono, troviamo il termine più adatto alla circostanza, condurre in porto il risultato. Saremo nelle condizioni di fare la class action, Luca? Non lo so, vediamola, non ti dico di no. È una proposta interessante, so che sul meccanismo della class action potremmo parlare a lungo, peraltro su un ambito credo inesplorato, ma non è questo adesso il punto. Il punto è presentarci in modo unito nei confronti dei nostri interlocutori. Dobbiamo alzare l'asticella, l'abbiamo alzata, dobbiamo alzare la voce, la stiamo alzando, dobbiamo portare i risultati. Non dipendono solo da noi, dipendono anche da tutti i presenti in sala, da tutti quelli che non ci sono, ma soprattutto dall'impegno della politica. Questo lo ripeto perché è un elemento assolutamente fondamentale, tant'è che quando la politica si è mossa in questo senso, non nello specifico caso, nel caso che ricordava prima nel settore immobiliare, come pure io potrei ricordare alcuni specifici casi dove abbiamo avuto un sostegno rilevante, determinante nel mondo della politica, soltanto così otterremo questi risultati. Impegni precisi, aspettative precise. È qui che ci misureremo tutti quanti insieme. Grazie.